Vi ricordate il problema del povero allievo? La littosi! Scopriamo insieme come è andata l'operazione. L'operazione non è stata per niente facile. Da prima abbiamo cercato di utilizzare una tecnica poco invasiva. Ossigeno! No, no, a me! Il paziente in anestesia totale non ha sentito assolutamente niente. Madonna che puzza decesso! E' come un wager! Spazzolone! Nonostante i nostri sforzi, l'odore continuava a rimanere persistente. Quasi sgradevole. No, no. E questo puzza. Puzza sì. Per questo abbiamo preso una dura decisione. E qui l'unica soluzione è tappare la fogna. Bostick! Il ragazzo non riusciva a comunicare neanche prima. Sicuramente è al libro per il controllo. Unleave! Si deve seccare! 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 E con Unleave abbiamo gesticolato e mi è sembrato molto soddisfatto. Botolino? Per tutti? 1, 2, 3, 4